yuki a tutti ben ritrovati sul canale allora ragazzi oggi voglio discutere insieme a voi sul se conviene o meno acquistare la nuova espansione battle of legend crystal revenge sembra un porno ma prima di andare ad analizzare il prodotto vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da magic corner e vi ricordo che se volete preordinare questo prodotto trovate il link del loro store qua sotto in descrizione inoltre se volete supportare canale e video vi ricordo che vi basta solamente mettere mi piace e scrivervi inoltre se volete convertire le vostre carte di yuki magic e pokemon in denaro sonante vi basta passare qua sotto in descrizione c'è il mio instagram scrivetemi mandatemi le foto e forse se c'è qualcosa che mi interessa se ne può parlare detto questo procediamo con l'analisi del prodotto da come potete vedere il nuovo prodotto è incentrato sui nuovi supporti bestia cristallo e sulle carte presenti su una vecchissima carta magia terreno dove venivano ritratti nella loro versione oscura ammetto che l'idea è fighissima l'unica cosa è che secondo me è un po un po tamarro il box ma vabbè dettagli possiamo vedere i vari artwork dei pacchetti abbiamo il gatto ametista carbanco rubino la tigre topazio la tartaruga il mammut benissimo perfetto e il pegaso così no nel senso manca sia il pegaso che l'aquila vabbè l'aquila chi se ne frega però nel senso per caso best card carta più forte del mazzo non mettiamo cioè vabbè scelte loro ma vabbè a parte questo come è strutturato il pacchetto praticamente come tutti battle of legend passati ovvero ci sono cinque carte quattro ultra e una secret quindi se tengo in considerazione it in non credo che ci sia un pull rate garantito ma ogni carta ultra ha la stessa possibilità di uscire come ogni carta secret ovviamente ci sarà quella più short print quella meno esempio droplet l'anno scorso in brawl però indicativamente dovrebbe funzionare così detto questo io passerei subito a vedere lo spoiler delle carte perché ci sono delle reprint veramente incredibili siamo su wikipedia perché il convento ovviamente passa questo e andiamo a vedere allora partiamo con le carte belle anime del cavaliere della regina del re e del jack che sono royal straight slayer e praticamente la scala reale la magia rapida poi abbiamo altra roba a caso come penso all'artiglio del drago nero va bene questa roba che ci interessa molto questa bella non me ne frega un cazzo poi a parte roba un po' discutibile abbiamo i nuovi supporti cristal vista ovviamente metterli dentro structure e pesava troppo il culo ma beh dettagli voglio leggere il pegaso perché mi sa di roba straubi allora se adventure dark che è la terreno quella che abbiamo visto prima non è sul terreno manda questa questo mostro al cimitero se questa carta evocata posso posizionare un alvei seed crystal beast monster bandito o nella mano deco cimitero coperto nella zona carta magia e trappola come una carta magia continua poi se questa carta scoperta è distrutta e si trova nella zona mostri puoi posizionare questa carta nella zona e carta magia e trappola come una magia continua invece di mandarla al cimitero onesto ci sta molto più forte il pegaso vecchio però poi abbiamo morfotronic impact toolbox altra carta morfotronico poi crystal school ok questa è bellissima questa è incredibile perché è stata utilizzata nella serie 5ds quando u6 si trovava in prigione è bellissima ho sempre sognato stampassero questo archetipo grazie conami allora non so se hanno stampato tutto il mazzo ma nel caso me la recupero cento cento troppo bella poi questa sarà ultra probabilmente si ultra poi vediamo 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 abbiamo stonehenge ok altra carta sempre utilizzata in quell'arco narrativo e dream shark vabbè una carta squala a caso non me ne frega niente abbiamo numero 2 che è un ninja ninja insetto mamma mia che cosa terribile poi dream cicada dopo l'archetipo insetto che usciva in dama e poi in quote non voglio vedere più niente del genere poi carta per forma vediamo cosa fa considerando che l'altra volta preso gli schiaffi da pendolo e sinceramente non vorrei prenderli più quindi meglio informasse su cosa esce allora posso selezionare un performa palo 1 dice nel cimitero add alla mano e può utilizzare gli effetti una volta per turno allora effetto pendolo puoi targhettare un performa palo 1 dice nel tuo cimitero aggiungerlo alla mano e distruggo questa carta utilizzare l'effetto di performa per una volta per turno come effetto mostro durante la tua main phase se controlli questa carta pendolo può attivare il seguente effetto basato sulla posizione in cui si trova posizione d'attacco puoi bannare questa carta targhettare un performa palo 1 dice monster nel cimitero specialmente onesto non è male difesa seleziona un performa pala 1 dice nel tuo deck e posiziona lo scoperto nel tuo extra dec o manda al cimitero puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno per io non mi dispiace poi non sono giocatore di pendolo quindi ragazzi posso dire un sacco di cazzate allora poi abbiamo a della roba dinosauro che ho visto gli artwork sono la cosa più bella del mondo sogno un intero archetipo così è incredibile non saranno mai sono secret sono bellissimi li voglio allora questo qui dice che se non controllo mostri o se tutti i mostri che il controllo sono di dinosauro posso evocare specialmente questa carta la tua mano se questa carta è evocata normalmente specialmente ad una maggior trappola d'archetipo del deck alla mano e discarta una carta poi abbiamo dov'è l'altro il tiranno che no più bello che l'altro c'è la faccina un po simpatica e per concludere abbiamo ovviamente la trappola vabbè ma questa la tralasciamo altri crystal beast che praticamente sono le ristampe di quelli vecchi bene sono appena state ristampate nello structure grande mettiamole pure qua abbiamo poi advanced dark che praticamente è la terreno che abbiamo visto prima che usciva d'espansione poi abbiamo tutti i blackwing che comunque ci sta visto che sono carte che alcuni iniziavano a costicchiare si giocano nei formati in double sono usciti dei supporti che rendono il mazzo giocabile e anche abbastanza poi abbiamo grazie grazie a dio abbiamo la ristampa di tutti i toon di toon chaos abbiamo la lady arpia che in italiano costava una fracca che grazie a dio ho venduto poi abbiamo il bls che questo ragazzi questo costava 40 euro ma stiamo seri cioè prima aver fatto il mazzo toon spendevi una cosa come 400 euro più di un mazzo da meta ma ci rendevo conto e non al massimo ovviamente poi poi abbiamo un bel dd crow ultra perché immancabile era una delle poche entrap che non avevano reprintato sarei stato molto più felice se ci mettevano super poli ma vabbè dettagli poi abbiamo due carte che si giocano in despia che sono state ristampate che mi hanno fatto perdere dei soldi che sono edge in chain che è imp filo di catena scusate vabbè anche quella è una reprint buona un po tardi ma è buona che è questa e l'altra è frightful patchwork carta di merda che ne avevo appena comprate tre rare pagate uno sproposito e adesso addio soldi grazie manco sì che l'hanno fatta porca troia poi abbiamo il sappier che è il kokimeru anche questo si aggirava sui 10 12 euro cad quindi ottima ristampa considerando che usciva in rod se non sbaglio e non è stata ristampata netin all'epoca poi abbiamo il doom kaiser anche questa reprint buona considerando che è uscito maglia casci adesso e si giocano i formati in un formato edison e l'hanno fatto pure secret quindi molto bellino poi abbiamo vabbè un altro sincro zombie meno utile ma comunque sempre sincro zombie poi borreload savage che nel senso era anche ora l'unica cosa che l'hanno fatto di nuovo secret perché c'è ultra l'espansione secret datin e secret di nuovo attualmente in questa versione che vedete da mp20 si aggira sui 30 euro non so quanto scenderà e se la reprint sarà poco secondo me si aggirà ancora sui 15 euro che comunque non credo sia così facile da trovare poi dopo borreload abbiamo numero 100 f 0 dracutopico secret che ok va bene diciamo che la carta non aveva reprint non si gioca adesso probabilmente anche questa sarà sulla decina d'euro e probabilmente la comprerò per sostituirla a quella collector che ho poi abbiamo patchwork che ve l'ho detto abbiamo destiny fusion secret ci sta sì soprattutto perché è tornata a tre la gente l'ho aver prezzata quindi esplodete grazie carta xy splander patrol se non sbaglio le sfere hieratiche che vabbè c'hanno 72 stampe anche in ghost from the past 2 va bene poi abbiamo carta salior che me ne faccio niente sempre con gli zombie va bene poi ho finalmente cazzo la reprint di selene 17 euro costava prima da duo usciva tossette è uscito mille anni fa cazzo finalmente cazzo per stampa questa il bls che è uscito in mama ci hanno messo sei anni ci stanno a ristamparla subito perché di un set particolare ma cavolo dopo un anno e mezzo e dati la fuori stranamente hanno riprintato solamente verte e alchi fibrax e poi sono state toccate incredibile mamma mia poi abbiamo access code che anche queste secret quindi ragazzi previsione quello secret da pack sta a 70 quello da gold sta a 40 secondo me se non esce me sa che almeno questa versione la dovrete pagare dai 50 ai 40 non credo di meno se si svaluta qualcosa si svaluta la versione gold che fa veramente sboccare poi abbiamo allora ho sbagliato questo è il link blunder che prima detto xyz non so perché e prima emblem e la magia e se non sbaglio anche questa non era mai stata riprintata da etko poi abbiamo artemis che ci sta perché comunque costicchiava anche questa e diciamo i magistus si possono giocare in exosister quindi la reprinta era necessaria soprattutto perché usciva in jam set del cazzo che non viene mai riprintato e per concludere abbiamo i due link evil twin che sono kisilic e l'altro lilla diciamo che stavano sui 20 euro cad quindi montasse il mazzo è una spesa enorme poi l'hanno fatta il secret quindi è pure un rarity bump onesto per i giocatori del mazzo se non hanno comprato il mazzo adesso penso possono ritenersi soddisfatti per tutti gli altri sucate un botto poi facciamo un paio di considerazioni conviene o meno acquistare questo prodotto allora attualmente questo prodotto non costa tanto nel senso rispetto a un box di espansione costa non dico la metà però un terzo di meno in più avendo solo ultra solo secret la possibilità di trovare la roba che ti serve è molto più alta rispetto a un box normale di espansione che ha due secret 4 ultra e tutte super senza contare poi che le carte buone all'interno del set sono svariate e diciamo la prevendita probabilmente uscirà settimana prossima però sono abbastanza fiducioso nel senso ci sono carte che secondo me manterranno un valore nel senso selene non me l'aspetta un euro stessa cosa access code allora io ve lo dico tanto non c'è niente da nascondere sto valutando l'acquisto di un case che attualmente mi verrebbe a costare 620 euro il problema è che non c'ho un bocco momentaneamente però diciamo che so abbastanza attirato poi può capitare che ci sono i pull rate scriptati nel senso può essere access code te ne da due o tre a case però nel complesso oltre alla carta costosa c'ha un contorno buono questo cosa che l'anno scorso non succedeva perché a parte droplet anima dei maghi e un'altra carta che non ricordo il nome cioè il resto faceva sboccare ragazzi le mie impressioni sul prodotto ve lo dette fatemi sapere voi qua sotto con un commento cosa ne pensate nel caso fatemi sapere se lo comprerete o meno detto questo ragazzi state mesi e noi ci vediamo sempre qua con un nuovo video ciao a tutti